Allì Sascha, sei in crisi, sei in crisi Ragazzuoli, buon Dì, buon Dì Dalla Svizzera con furore, oggi siamo svegliati, azzerchiati dalle montagne Anche il meteo forse ci grazierà, io lo spero molto, anche perché siamo comunque belli alti Partiamo a bassa voce Oggi una delle tappe comunque impegnative di questo Giro E Perché faremo quasi una settantina di chilometri con 1900 metri di dislivello E tra l'altro si parte subito a bomba perché partiamo da qui E saliamo direttamente per scavallare questa montagna Riscendere nella valle appunto che c'è qui dietro E poi fare l'ultima parte di salita che ci porterà fino a Crash Montana Crash Montana che magari per chi di voi mi segue per la parte enduro Si ricorderà per la tappa delle WS Corsa negli ultimi anni Detto questo, oggi team veramente veramente importante Perché abbiamo il responsabile marketing Europa di Yamaha Che è Paolo, ma ve lo faccio vedere dopo, ve lo ripresento dopo Mentre invece per la parte racing abbiamo i due scannatori di ieri Che ci hanno accompagnato e che hanno appunto portato alto il valore del team Che ci hanno permesso di vincere di nuovo la maglia azzurra che portiamo con grande grande orgoglio Dovetevi andare in Alaska oggi No, anche io sono stravestito Ma lo sai che poi inizia a tremare Ciao Andrea, buongiorno Fa strano o per ultimi? Dietro le due ruote che accompagnano il sostegno del Giro d'Italia c'è lui E' Paolo Pavesio Ciao Paolo Andrea, hai capito che mi dovevi portare per la mia moto? Finalmente hai capito! Sono 11 tappe che gli chiedo una moto 11 tappe Organizziamo, adesso hai capito E poi Il stanno per Davide Dagri Diego Pavesio Ciao Diego Simone Curti Ciao Simone Marcello Baloncini Mi raccomando le battine di riserva eh Fondamentali Panico! Panico consumo! Salviamo il motore! Ma che bella è sta Mini Mondraker E si va all'incolonamento Tutti belli bardati Direi che ci voleva un pensierino Eh? Per quello che sta succedendo in Romagna 1 2 1 2 2 2 3 2 3 5 6 Ma anche l'hanno costruito ieri eh Sono solo dei cartonati che hanno messo qua davanti Per farci passare noi Tutto costruito è un set praticamente Allora subito subito Squalificato Intentativo di decollo Miliano Miliano Oh oh Regali te? Fraterni te? Jet privé Va il p***o l'uomo è nero Va Vabbè Vieni 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 Oggi ragazzi special guest Abbiamo Paolo Paveseo Cioè salire così parlando su una salita sta apprezzando la potenza delle nostre vici Portiamo i motori davanti per vedere chi ha veramente il power Ma che bello è in sciallanza così Poterti fare l'autotifo vedendo in salita che hai il fiato per farlo Purtroppo Paolo vive in Olanda dove le uniche salite sono i cavalcavia Tutti sottostimano il vento 40 all'ora, giri 90 gradi, 15 Pronti, vicini, vicini Oggi partiamo subito così 18 minuti di prova 4.2 di lunghezza Vabbè se stiamo sui 14 del sensore va bene Guardate che roba Che bello Già in crisi Elisa È già dura Non voglio sudare Ma come sono i tuoi uomini? Vuoi una spinta? No, no, sto aspettando i miei Guarda, 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 c'è il nostro paolo Eh ma tu sei super leggero Maripo Fai fatica Ale, ale, ale Ale, ale Grazie Gili per la tua volontà di portarmi avanti Ci mancherebbe altro Lisa Sei sempre la benvenuta quando hai bisogno di un braccio Siamo a 1.87 Sì, sì, è una grande regola Per fare la miglia Grazie, grazie Sì, grazie Due chilometri del gpm Scusa Hai il tuo ritmo Non è il tuo ritmo Non è il tuo ritmo? Ah, sì Sì, grazie Sì, grazie Sorpassano sempre poi fermi Ragazzi bisogna aumentare un po' Mettete pure il standard o quello che avete Un minuto per arrivare là Quindi menare No, è lì Ci siamo tutti? A lei, Almeda A lei, Almeda 30 secondi per fare questo pezzo Paolo Ci siamo tutti? C'è, c'è, c'è Come Diego? Dov'è Diego? Piano, 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 piano Ah, ci siamo già passati Era questo? E dov'è Diego? Dov'è ti sei perso Diego? Non dirmi che ti sei messo a fare le foto Ecco, ti sei messo a fare le foto Diego Cosa ti avevo detto? Ci hai fatto le foto Si, le hai fatte Diego Non mi raccontare le palle Perché hai fatto perdere la tappa Diego Non hai il guanto e la manichetta tirata su Non raccontarmi le palle Diego pendendo le balsoni Bellissimo Bellissimo Che salita Che figo e si va a fare questi 20 chilometri di discesa l'acquettina malefica che panorama eccolo andiamo che se non ci raffreddiamo freschetta adesso eh più che altro che la strada bagnata ci sta facendo un po' soffrire se hai dovuto tornare indietro a prendere i pantaloni avrei fatto la mossa della vita ma non ci ho pensato perché pensavo di stare bene che boschi bellissimo è la prima volta che li vediamo così eh anche sul sul campo imperatore non c'era questa questa parte di bosco che panorama vabbè si commenta da solo una birrettina no un aperitivo ci stava lì eh dicono che dal chilometro 17 la strada dovrebbe parecchio migliorare mamma mia che che asfalto che c'è qui qua male male anche per i corridori che devono passare dopo dal giro vero non vorrei essere in loro intanto anche la temperatura comincia a scaldarsi un pochettino all'alè 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 80 all'ora guarda 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 come è guarda ah l'alè ah piano qui che sarà viscido come che non so che roba si sa che abbiamo un po cotto i rischi, sono viola 40 ciclo è l'arrivo e tanto qua sotto la valle il rumorino non è bellissimo allora com'è? divertito? rapporto troppo duro con tutto il rapporto duro uscita dalle curve 35 all'arrivo ragazzi sono 4 chilometri e 2 da fare in 9.36 quindi più o meno settimiamo i 26 all'ora di velocità siamo lì poi ci regoliamo col tempo quando arriviamo lì che vediamo il banner di fine ok piano 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 bomba informazione ma che paurosi avete chiamato un elicottero? si per te ah grazie non dovevate chiamarlo spero non abbiate speso troppo 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 troppi soldi 30k 30k la prossima volta dammi le a me 15 all'arrivo e comincia adesso la salita meno di un chilometro all'ultima tratta cronometrata oh alli 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 albido eh c'è te bomba i ragazzi metto in standard questa sera del distinto è un mio onore andare in standard come te eh è un mio onore ha ha sinché resisto al lì sacia sei in crisi sei in crisi è proprio è proprio una salita del cristo è perché loro Paolo se la fanno loro la fanno facile pesano 20 kg vestiti quando ti porti in giro la tavorra poi la storia è diversa in salita perfetti Paolo sei intero a posto sicuro ma non so se devo cambiare batteria non lo so tutto a posto ragazzi avete batteria ancora batteria sposto ragazzi devo salutare anche voi sai che oggi dovremmo arrivare in impennata io e te mi ha detto che possiamo farlo c'è andato il nulla osta per dai che domani facciamo la foto con le magliette infatti adesso va di moda un po' anni 90 un po' loose così ci sta il fit è semplicoso pisola dei sette nari ma che scorso non hai nessuno che ti urla dietro non è male che torniamo a casa domani cazzo quattro chilometri a lei Igor a lei Igor hai mangiato meno? si scaricata la batteria buona fame aiuto tra velocisti aiuto tra impegnatori più che altro non c'è un po' di faccia e anche di camera tu hai fatto mano le Lello ha chiuso la sua giornata ha trovato qualcuno che lo conosce guarda com'è contento guarda com'è contento adesso salutate Lello salutate Lello Lello di spia ultimo chilometro sono pazzo alle di te che arrivamo insieme oggi è una volta buona perché mi andrea la pottine insieme come la facciamo? come i giapponesi eccoli grandi niente maglia oggi ragazzi niente maglia salute 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 siete stati sfatati abbiamo planato planato beh sì no direi sì ma non so abbiamo vinto anche l'inscellanza in standard e salivo come una livellula modalità eco e via e si vuol bene anche la natura comunque Ema è tipo è importante quelli che guardano i treni in giappone i treni spotter per niente Ema è il 4x4 spotter quando vede un mezzo tipo che è di 4x4 si prende bene un 4x4 un perro il perro svizzero comunque ragazzuoli è finito anche oggi ci siamo divertiti non abbiamo preso la pioggia sta uscendo pure il sole e quindi abbiamo già vinto domani tappa super facile 40 chilometri 300 di dislivello ce la godiamo l'unico spazio adesso sarà farsi nuovo tra loro di strada per tornare in Italia ma ormai ci siamo abituati ma sono stanchissimo ma è possibile quindi ragazzuoli se la prima volta guardate qui iscrivetevi al canale come al solito ci vediamo domani lasciate un commento fatemi sapere cosa ne pensate e dall'arrivo del giro d'Italia qui a Canas Montana direi che è tutto ci vediamo domani se non muoio prima grazie a tutti